La diversità è molto svalutata per la nostra società. Ci sono tantissime diversità. Se fossimo tutti uguali, il mondo sarebbe noioso, prevedibile. Il colore di pelle o la religione in cui crediamo, anche all'interno della nostra scuola. Per la società il diverso è da immarginare. I ragazzi debbano avvicinarsi positivamente alla diversità. È ciò che ci rende unici e le diversità di un'altra persona ti aiutano a vedere il mondo da un'altra prospettiva. Io veramente i miei diritti non li conosco fino a fondo perché ai ragazzi viene più spiegato il loro dovere che il loro diritto. Non conosco bene i miei diritti e i miei doveri, mi piacerebbe conoscerli meglio. La persona che più mi ascolta è il mio ragazzo, è la persona che davvero mi comprende, i miei problemi e mi è sempre vicino. Ancora di più della mia famiglia, ancora di più dei miei amici. Io e noi abbiamo un rapporto molto profondo e ci cambiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.